Venne allora a Pasquale Bruno un terribile desiderio di mandare nelle reni del traditore il colpo di pistola di cui l'aveva già tre volte minacciato, ma rifletté che era meglio lasciargli compiere la commissione di cui l'aveva incaricato piuttosto che ottenere una vendetta inutile. D'altronde Tommaselli, sicuro che per lui non c'era tempo da perdere senza darsi la pena di portare la scala dall'altra parte del muro, era appena saltato giù. Pasquale Bruno sentì il rumore dei suoi passi che si allontanavano e risalì immediatamente verso i suoi compagni. Adesso, disse, possiamo combattere tranquillamente, non ci sono più traditori tra di noi. Infatti, dieci minuti dopo, il combattimento iniziò. Grazie all'avviso di Tommaselli, i miliziani non osarono rischiare un assalto, nel timore, così come aveva detto Bruno, che li facesse saltare tutti insieme a lui. Si si limitò quindi ad una sparatoria. Era ciò che voleva il bandito, che così guadagnava tempo e che grazie alla sua abilità e a quella dei compagni sperava di ottenere una capitolazione onorevole. Tutti i vantaggi della posizione erano per Bruno. Riparati dalle pareti, lui ed i suoi compagni tiravano a colpo sicuro, mentre i miliziani ricevevano il fuoco allo scoperto. Ed ogni pallottola andava a segno, e benché essi rispondessero con il fuoco del plotone e dei colpi isolati, già una ventina dei loro uomini erano stesi per terra, mentre non uno dei quattro assediati aveva ricevuto una sola scalfittura. Verso le undici del mattino, uno dei miliziani attaccò il suo fazzoletto sulla canna del suo fucile e fece segno che aveva delle proposte da fare. Pasquale si mise accanto ad una finestra e gli gridò di avvicinarsi. Il miliziano si avvicinò, veniva a proporre agli assediati, in nome dei capi che guidavano l'assedio, di arrendersi. Pasquale chiese quali erano le condizioni imposte. Erano la forca per lui ed i lavori forzati per i suoi quattro compagni. C'era già un miglioramento nella situazione, poiché se fossero stati presi senza capitolazione, tutte e cinque non sarebbero sfuggiti all'impiccagione. Tuttavia, la proposta non sembrò abbastanza vantaggiosa a Pasquale Bruno, da accoglierla con entusiasmo e rinviò il parlamentare con un rifiuto. Il combattimento riprese e durò sino alle cinque di sera. Alle cinque i miliziani contavano più di sessanta dei loro fuori servizio, mentre Bruno e uno dei suoi compagni erano ancora sani e salvi. Gli altri erano stati soltanto leggermente feriti. Nel frattempo le munizioni diminuivano. Non la polvere, perché ce n'era tanta per sostenere un assedio di tre mesi. Ma le pallottole cominciavano ad esaurirsi. Uno degli assediati raccolse tutte quelle che erano penetrate dalle finestre nell'interno dell'appartamento e che erano penetrate dalle finestre, mentre gli altri tre continuavano a rispondere al fuoco. Le adattò al calibro delle carabine dei suoi compagni. Lo stesso parlamentare, di prima, si ripresentò. Veniva a proporre i lavori forzati a tempo invece che a vita e proponeva, seduta stante, di discutere la durata. Quanto a Pasquale Bruno, la sua sorte era ormai segnata e nessun compromesso, ovviamente, poteva addolcirla. Pasquale Bruno rispose che era già meglio di prima e che un accordo era forse possibile se avessero concesso la libertà ai suoi compagni. Il parlamentare rientrò nelle file dei miniziani e la sparatoria ricominciò. La notte fu fatale agli assedianti. Pasquale, che vedeva le sue munizioni esaurirsi, sparava solo a colpo sicuro e raccomandava ai suoi compagni di fare altrettanto. I miliziani persero ancora una ventina di uomini. Parecchie volte i capi furono tentati di mandarli all'assalto, ma la prospettiva che si presentava in un caso simile è che a loro, aveva energicamente descritto Tommaselli, li mantenne sempre a distanza e né le promesse né le minacce riuscirono a deciderli a quell'atto di coraggio che sembrava loro un atto di follia. Finalmente, verso le sei del mattino, il parlamentare riappare una terza volta per offrire la grazia completa, intera, irrevocabile, ai quattro compagni di Bruno. Per lui la prospettiva restava sempre la stessa forca. I compagni di Pasquale volevano sparare sul parlamentare, ma Pasquale li fermò con un gesto imperioso. «Accetto!» disse. «Che fai?» esclamano gli altri. «Vi salvo la vita!» disse Bruno. «E tu?» ripresero gli altri. «Io?» disse Bruno ridendo. «Non sapete che posso andare dove voglio? Che mi rendo invisibile a mia volontà e che sono invulnerabile? Uscirò dalla prigione e fra quindici giorni vi raggiungerò in montagna». «Parola d'onore?» chiesero i compagni di Bruno. «Parola d'onore!» rispose Bruno. «Allora è un'altra cosa!» dissero. «Fai come vuoi!» Bruno riapparve alla finestra. «Allora accetti?» chiese il parlamentare. «Sì, ma ad una condizione. Quale?» «Uno dei vostri capi mi servirà d'ostaggio ed io lo libererò solo quando vedrò i miei quattro compagni perfettamente liberi nella campagna». «Non ti basta la parola dei capi?» disse il parlamentare. «È con una parola simile che i miei sei zii sono stati inviati ai lavori forzati. Non stupitevi se prendo le mie precauzioni». «Ma?» disse il parlamentare. «Non c'è ma!» interruppe Bruno. «Prendere o lasciare?» Il parlamentare ritornò verso gli assedianti. Subito i capi si riunirono in consiglio. Una delibera fu presa. Si stabilì di affidare alla sorte il compito di scegliere chi dei tre capitani avrebbe dovuto consegnarsi come ostaggio a Bruno. Tre biglietti furono messi in un cappello. Due erano bianchi. Il terzo era stato annerito completamente con la polvere. Biglietto nero era quello perdente. «I siciliani sono brava gente. Ho già avuto occasione di dirlo». E lo ripeto. Il capitano al quale toccò il biglietto nero strinse la mano ai suoi compagni, pose a terra il suo fucile e la sua girberna e, prendendo a sua volta la canna del fucile a cui era attaccato un fazzoletto bianco per non lasciare alcun dubbio sulla sua missione pacifica, si avviò verso la porta del castello che gli si aprì davanti. dietro la porta trovò Bruno e i suoi quattro compagni. «Allora», disse l'ostaggio, «accetti le condizioni proposte? Noi le accettiamo e ci impegniamo a mantenerle, per questo sono qui. «Anch'io le accetto e le manterrò», disse Bruno. «Quando i vostri compagni saranno liberi, vi consegnerete a me? A voi e non ad un altro? Senza nuove condizioni? Una sola? Quale? Dovunque mi si voglia impiccare, a Messina o a Palermo, nell'una o nell'altra città, voglio andarci a piedi e senza che mi leghino né le braccia né le gambe». Concesso? A meraviglia. Pasquale Bruno si girò verso i suoi quattro amici, li abbracciò l'uno dopo l'altro e abbracciandogli diede a ciascuno il loro appuntamento a quindici giorni dopo nella montagna, perché fosse, forse, senza questa promessa quella brava gente non l'avrebbe lasciato andare. Poi, afferrando l'ostaggio per il polso, perché non cercasse di scappare, lo fece salire con lui nella stanza da dove le finestre si affacciavano sulla montagna. Poco dopo apparvero i quattro compagni di Bruno. Secondo la promessa fatta uscivano armati e perfettamente liberi. La fila dei miliziani si aprirono davanti a loro che superarono senza impedimenti il cordone vivente che chiudeva la piccola fortezza. Poi continuarono ad avanzare verso la montagna. Presto si inoltrarono in un piccolo bosco di olivi che si stendeva tra il castello e la prima collina della catena dei monti peloritani. Poi riapparvero mentre salivano sulla collina ed infine arrivarono alla sua cima. Là tutte e quattro sbracciandosi si girarono verso Pasquale che li aveva seguiti con un lungo sguardo e gli fece lo segno con i cappelli. Pasquale rispose al segnale con il suo fazzoletto. Cambiato quest'ultimo addio tutte e quattro si misero a correre e scomparvero dall'altro lato della collina. Allora Pasquale liberò il braccio del sostaggio che sino ad allora aveva tenuto fortemente stretto e rivolgendosi a lui. Prendete gli disse voi siete una brava persona preferisco che siate voi ad ereditare da me piuttosto che la giustizia. Ecco la mia borsa prendetela dentro ci sono trecentoquindici once adesso sono ai vostri ordini. Il capitano non si fece pregare mise la borsa in tasca e chiese a Pasquale se aveva qualche altra raccomandazione da fargli. No disse Pasquale vorrei solo che i miei cani fossero ben sistemati sono buone nobili bestie che ricompenseranno il loro padrone ben al di là del pane che mangeranno. ma me ne occupo io disse il capitano bene questo è tutto rispose Pasquale ah per quanto riguarda la mia cagna leonessa desidero che resti con me sino al momento della mia morte è la mia favorita d'accordo rispose il capitano ecco non c'è più niente continuò Pasquale con la più grande tranquillità adesso andiamo e mostrando la via al capitano che non poteva fare a meno di ammirare il suo coraggio freddo e tranquillo scese per primo capitano lo seguì e tutti e due giunsero in mezzo al più grande silenzio alla prima fila dei miliziani eccomi disse Pasquale adesso dove andiamo a Messina dissero i tre capitani va bene a Messina allora andiamo e prese la via di Messina tra due ali di miliziani restando al centro della strada con i suoi quattro cani corsi che lo seguivano a testa bassa come se avessero capito che il loro padrone era prigioniero come si può ben capire il processo non fu lungo lui stesso precedette l'interrogatorio raccontando tutta la sua vita fu condannato ad essere impiccato la sera prima dell'impiccagione arrivò l'ordine di portare il condannato a Palermo Gemma la figlia del conte di Castelnuo che era stato ucciso dal padre di Bruno godeva di un certo favore a corte e siccome desiderava assistere all'esecuzione aveva ottenuto che Pasquale fosse impiccato a Palermo Pasquale poiché gli era indifferente essere impiccato in un luogo o in un altro non fece nessuna protesta il condannato fu condotto con una carrozza scortata da una squadra di carabinieri e in due giorni arrivò a destinazione l'esecuzione fu fissata per il giorno dopo che era un martedì si concesse vacanza alle scuole e dai tribunali perché ciascuno potesse assistere a tale solennità alla sera il prete entrò in prigione e trovò Bruno molto pallido e debole ciò nonostante si confessò con voce calma e sicura soltanto alla fine della confessione rivelò che si era appena avvelenato e che cominciava a sentire gli effetti del veleno era ciò che causava il pallore e la debolezza che il prete si era stupito di vedere in un uomo come lui il prete disse a Bruno che era pronto a dargli la soluzione di tutti i suoi crimini ma non del suicidio perché i suoi crimini gli fossero rimessi era necessaria l'espiazione della vergogna egli aveva voluto sfuggire all'espiazione per orgoglio davanti agli occhi del signore era un torto Bruno all'idea di morire senza soluzione fremette l'uomo a cui nessuna potenza umana avrebbe potuto fare abbassare gli occhi tremava come un bambino davanti alla dannazione oterna chiese al prete di dirgli che cosa avrebbe dovuto fare e promise che l'avrebbe fatto il prete chiamò subito il carceriere gli ordinò di far venire un medico e di avvertirlo di portare con sé dei controveleni efficaci il medico arrivò i controveleni dati in tempo fecero il loro effetto a mezzanotte Pasquale Bruno era già fuori pericolo a mezzanotte e mezza ricevette la soluzione il giorno dopo alle 8 del mattino uscì dalla chiesa di San Francesco di Sales dove aveva passato la notte nella cappella ardente per recarsi nella piazza della Marina dove doveva avere luogo l'esecuzione trasferimento avvenne con l'accompagnamento di tutti i terribili accessori delle esecuzioni italiane Pasquale Bruno era legato su un asino che camminava a ritroso preceduto dal boia e dal suo aiuto seguito dalla confraternita dei penitenti che portavano la bara in cui doveva riposare per l'eternità e accompagnato da uomini che indossavano lunghe vesti forate soltanto nella parte degli occhi nelle mani avevano un salvadanaio che agitavano come un campanello e che presentavano per ricevere l'elemosina dei fedeli destinata a far dire delle messe per i condannati l'affollamento era tale in via Cassero che il condannato doveva attraversare in tutta la sua estensione che più di una volta il corteo fu costretto a fermarsi ogni volta Pasquale volgeva il suo sguardo calmo su tutta la folla che sentendo che non era un uomo ordinario che stava per morire lo seguiva con una curiosità crescente ma compassionevole e senza che neanche un insulto fosse proferito contro il condannato al contrario parecchi racconti circolavano tra la folla esempi di coraggio o di bontà attribuiti a Pasquale di cui gli uni entusiasmavano gli uomini e gli altri intenerivano le donne alla piazza dei quattro cantoni siccome il corteo subiva una di quelle soste frequenti che gli imponeva l'affollamento nelle strade quattro nuovi monaci si aggiunsero al corteo dei penitenti che seguivano da vicino Pasquale uno dei monaci alzò il suo cappuccio e Pasquale riconobbe uno dei bravi che avevano sostenuto l'assalto con lui capì subito che gli altri tre monaci erano i suoi tre compagni e che erano venuti lì per salvarlo allora Pasquale chiese di parlare con il monaco con il quale aveva scambiato un segno di riconoscimento e il monaco gli si avvicinò veniamo per salvarti disse il monaco no disse Pasquale voi venite per perdermi ma com'è possibile mi sono consegnato senza alcuna restrizione e con la promessa che vi avrebbero salvato la vita così hanno fatto io sono un uomo leale come loro hanno mantenuto la loro parola io manterrò la mia ma riprese il monaco cercando di convincere il condannato silenzio riprese il condannato o vi faccio arrestare il monaco ritornò al suo posto senza dire niente poi quando il corteo si rimise in cammino scambiò qualche parola con i suoi compagni e nella prima trasversale che si presentò abbandonarono la fila e scomparvero e arrivò così in piazza della marina i balconi erano affollati dalle più belle donne e dai più ricchi signori di palermo uno soprattutto quello posto di fronte al patibolo era come nei giorni di festa addobbato con tessuto di broccato era quello assegnato alla contessa gemma di castelnuovo arrivati ai piedi della forca il boia scese da cavallo e piantò sulla trave trasversale la bandiera rossa segnale dell'esecuzione subito sciolsero Pasquale che saltò a terra e salì lui stesso al ritroso la scala fatale presentò il suo collo perché vi passassero il laccio e senza aspettare che il boia lo spingesse si lanciò lui stesso dalla scala un urlo simultaneo partì dalla folla ma per quanto forte quello che lanciò il condannato lo superò talmente che ognuno credette che fosse quello lanciato dal diavolo uscendo dal suo corpo cosicché ci fu un tale terrore che tutti gli astanti caddero gli uni sugli altri e nella confusione lo zio del nostro capitano che era capo di milizia perse come ci raccontò quest'ultimo le fibbie d'argento e la cartuccera il corpo di Bruno fu consegnato ai penitenti bianchi che si incaricarono di seppellirlo ma visto che l'avevano portato nel convento dove si occupavano di quel pietoso servizio il boia si presentò e venne a reclamare la testa i penitenti volero dapprima difendere integrità del cadavere ma il boia tirò fuori dalla tasca un ordine del ministro che decretava che la testa di Pasquale Bruno sarebbe stata esposta per servire ad esempio in una gabbia di ferro lungo le mura del castello baronale di Bauso coloro che vorranno più ampie informazioni su questo famoso bandito potranno far ricorso al romanzo che ho pubblicato su di lui credo nel 1837 o 1838 questa è la storia pura e semplice così come me l'ha raccontata e come l'ho fatta firmare nel mio albo da sua eccellenza don Cesare Aletto notaio a Calvaruso